in questi giorni di festa così pasquali in genere si sorride si sta insieme ma io penso anche alle persone che non ci sono più penso a quelle che sono state ammazzate da quella fabbrica assassina chiamata ieri talcider poi ilva e oggi acciaierie d'italia e proprio oggi già da quando ho appreso la notizia sono rimasto sconvolto i tarantini sono rimasti sconvolti ma proprio ascoltando ripensando alle alle affermazioni deliranti di uno dei tre commissari di acciaierie d'italia appunto davide tabarelli secondo cui è l'acciaierie d'italia la fabbrica più pulita del mondo in questo giorno di festa in cui si pensa anche alle persone che non ci sono più beh alcune riflessioni sono d'obbligo sono affermazioni deliranti pazzesche sono un calcio in faccia uno schiaffo in faccia agli ammalati e ai morti di cancro per quella fabbrica perché guardate cosa dice parla di lo ribadisco esordisce ha esordito durante il precetto pasquale presso acciaierie d'italia ha parlato della fabbrica della di acciaierie d'italia come l'acciaieria più pulita del mondo stiamo veramente impazzendo e ancora dice abbiamo investito due quasi due miliardi in ambientalizzazione ma l'impianto funziona non perfettamente abbiamo bisogno di tempo per risolvere questi problemi e già qui tabarelli si sta sconfessando si sta contraddicendo perché prima ha detto che la fabbrica più pulita del mondo poi dice sì è vero abbiamo investito ma questo praticamente è servito a poco o a nulla ecco la falsità delle affermazioni ma sono affermazioni non solo false ma sono provocazioni sono provocazioni questa città è stanca di ricevere schiaffi in faccia schiaffi in faccia calci in faccia da questi soggetti e ancora prosegue dicendo chiaramente dicesse queste frasi il signor tabarelli ai familiari dei morti per quella fabbrica dice che questa fabbrica dunque lo dico per tutti quelli che ci hanno lavorato in passato abbiamo aperto l'ufficio studi con 40 stimato che ci hanno lavorato circa 200 mila persone questa è ricchezza sostenibilità politica industriale quindi l'attività di acciaierie d'italia è ricchezza sostenibilità politica industriale no per me è un'industria assassina industria assassina perché industria assassina significa un'industria che uccide oltre che in una situazione dal punto di vista finanziario proprio fallimentare addirittura dice che questo è uno stabilimento che tutta italia vuole al nord come al sud c'è volontà di investire su questa fabbrica ma che favole che bugie che falsità sono queste e se proprio qualcuno la vuole se la prendesse e se la portasse dalle parti sue non più a taranto quindi già questa situazione queste affermazioni deliranti gravissime gravissime ma oramai questa è terra di conquista questa città è diventata terra di conquista e poi vi dirò cosa propongo affermazioni poi altrettanto ipocrite quelle del del partito democratico i quali ora restano sentivo de gregorio lavigiano l'onorevole pagano che sono rimasti come dire sconvolti da queste frasi voi del partito democratico il partito democratico è stato il partito che ha prodotto più decreti salva ilva e ammazza taranto ma di cosa parlare di cosa parlare dovreste avere solo il buon gusto di tacere perché se l'ilva ha distrutto taranto lo ha fatto con la vostra complicità con i vostri con i vostri decreti salva ilva io sono un consigliere comunale voi lo sapete sono stato eletto nella lista taranto senza ilva candidato sindaco di quella di questa di questo movimento da me creato bene proprio in questo senso il mio apporto e supporto alla maggioranza la mia attività la mia azione presso questa maggioranza presso il sindaco presso gli assessorati l'assessorato all'ambiente per far sì che il comune di taranto l'amministrazione comunale svolga un ruolo di primissimo piano in questa battaglia ambientale l'amministrazione comunale deve farsi capofila di questa battaglia per per andare a per difendere il territorio ben vengano le due ordinanze che sono state fatte dal sindaco melucci e c'è da dire che a questo punto ripeto io ho anche proposto una grossa manifestazione a roma proprio perché taranto il comune di taranto deve far sentire la propria voce con i decreti con le ordinanze ben fatte giuste ma ci vuole ora una risposta forte dinanzi a queste affermazioni deliranti e ritengo che l'ente comune possa essere davvero il capofila di una battaglia per la difesa del territorio ecco la mia idea di difendere taranto una grossa manifestazione il comune di taranto c'è il comune di taranto difende e deve difendere l'ambiente con i fatti di questo ne sono certo lo faremo lo faremo insieme anche per dare una risposta a questi ipocriti del pd che prima fanno i decreti salva ilva e poi fingono di battersi il petto un po come il il coccodrillo che prima si mangia i figli e poi piange quindi uniti con questa amministrazione dalla parte dei cittadini per difendere il sacro santo diritto alla vita